Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari sotto servizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Benvenuti al meteo. L'alta pressione prevale sull'Italia, proteggendo così anche il nostro territorio. Domenica 30 maggio, splenderà il sole, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra una situazione più che buona, sarà infatti una giornata ampiamente soleggiata. Questo mese alquanto variabile ci ha però insegnato che nelle ore pomeridiane saranno possibili degli acquazzoni in montagna che in alcune zone potrebbero estendersi fin verso le pianure. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 7 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 20 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui poche novità, tanto sole ovunque, solo con occasionali annuvolamenti ma in genere innocui. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 22 e 23 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige dove sarà soleggiato, qualche addensamento potrebbe coprire il cielo ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 6 e 10 gradi, massime infine sui 23 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari sotto servizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.